Poi quattro ore e perplastare e in l'administrazione di casa, ci sono un'especialista in possibili di lavorare. Ma come? Per esempio, noi siamo in una messa per buscare diverse soluzioni per migliorare la qualità e la guida. Buon venito a un altro podcast di Kibo Kemen, questo podcast di Gubiano di Corso. Un'especchio con noi è il ministro Javier Silvania, il ministro di Salubridade, ma anche il ministro di Salubridade, ma anche il ministro di Graco per l'aspetto finanziario di Gubiano di Corso. Un'especchio con noi è il ministro di Salubridade, il Dr. Kayleigh. Buon venito, benvenuti nel podcast e l'episodio. Ma è una situazione che è andata per l'aspetto virus e gli anni. sta guardando un ASPRAG e porto un ASPRAG un specialista per tratamento o per operazione ando c'è qualcosa che non è corretto se il nostro tour è pagato prima per farlo per il vostro costo quindi potete diretti per cuido però il cuido non è acessibile per un e-tour e se è qualcosa che mi ha lamentato se non c'è qualcosa non c'è qualcosa che mi ha detto non è qualcosa che è buono e rende d'interesse e ai è cuido quando polacca un rende sta sofrer ando 5 e là è un fetcia per un ASPRAG un specialista o per un ASPRAG un operazione o minister ti un motivo pa' Kiko e se è ta surgi e ti indi aberto portar in tiki medico Kiko sta passando Kiko è te sito Kiko pone tem varii fattori che tommo un role però è ciò e poi c'è un altro doctor un altro specialista che non c'è la CMC che non c'è e non c'è chi non c'è il tempo di guardare per un'altro un'altro ma è un'altro una volta il ministro ha il sito Kiko sta il suo visione per un attenzamento di di lo che il ministro ha il suo visione di parla Vag, però mi sono andati a fare un attenzione come il ruolo di ministro. Ok. No, il ministro sta tommando un specialista di servizio. No, il ministro sta in mexico, sta buscando un specialista di un corso, di un trago. In il hospital mi è stato questo. Ok. Però a me, come ministro, via di inspezione, si, sta a punto di quello che sta passando. Si, a me sta ricebendo un senale che non si è a mea tabella mi sono andati a mei luo che sta guardando un'ospra per un specialista di operazione. E non mi è stato un contatto con quello che sta passando e che inspeccere il quadro. Ok. Anderò è visita che io ora è cammino a cu, in questo punto sta, è lista di aspettare che non mi sono andati a me. E se, in questo punto. Sì, ma non è possibile. Ma anche, ci sono un regno che ci sono che ci sono anche asprazi. Io ho capito che quando ci sono un giorno, ci sono asprazi. Non è stato realistico, ma non è possibile che ci sono tutti i giorni che ci sono fatto per operazione di catarata. Certo. Dr. Cayley, se ho ascoltato questo papi, e che ci sono importanti per capire, per capire per capire che ci sono arrivati a questo. Ora come vi ho spiegato, ma come anche, come 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 Inspector di Salubrida, che ci sono le cose che ci sono gli esperti che ci sono delle cose che ci sono le cose che ci sono le cose. Che ci sono le cose che ci sono le cose? Le cose le cose hanno ma c'è un po' diversi motivi, ma c'è un po' di operazione e c'è una situazione che c'è un po' di assistente di operazione c'è un po' di anestesia quindi c'è un po' di operazione di CMC ma c'è un po' di rai ma c'è un po' di cuenta che il CMC è avuto nel 2019 e il candidato di operazione di CMC ha avuto bisogno di ampliare per la candidata di CMC comparare con la qualità marina CEOS a ora di reduzione quindi in questo momento c'è un po' di capacità CMC ha avuto il operazione di assistente ma c'è un po' di assistente però guarda che c'è un po' di tempo ma c'è un po' di tempo sì, c'è un po' di personal c'è un po' di specialista però anche guarda un po' di tempo che c'è un po' di tempo che c'è un po' di tempo ma c'è un po' di tempo 4 ore o 5 ore ma c'è un po' di tempo in quel up ci ho avuto solo il momento c'è un po' di tempo ma c'è un po' di tempo solo ahead ci ho avuto che godaddzi non è venuto più a l'arga, però non si riperà, non c'è gente di un momento ora non bella, non hai un aspra non ti sa, non ti sa, non ti sa, non ti sa. Umm, bella qui tre sul, non sto qui ora ti luogo a Pavo, bella qui sei su, la ora bella qui sei su, la ora non hai un aspra, qua qui sei su, la due settimana, dopo ci sa, non ti sa attende, especially se vai qui vacanze, non si cancelava un aspra, orà qui due settimana, tre settimana, non si non ho back, Quattro giorni, podem andare a fare qualcosa di più di più di più di più di più di più di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.